vabbè usciamo da qui perché non posso aprire le tasche come faccio a togliermi la manetta moreno sai che sei quella manettata che non riesci a aprire le tasche muscolo f8 prop fix forse sei quella manettata che non riesci a aprire le tasche aspetta che tu ti rimanetto il ragazzo che mi ha messo i reati li me li può togliere assolutamente ma mi parli tu cost'occhiale fai concerti assieme a sfere basta in caffetteria te levano tutto quando fanno loro ma chi è che sta parlando allontanati che lo sveglione vattene arrivato lo sveglione mi chieda quella chioma no se mi dice vattene le robe gli prendo la faccia da quei capelli di merda e la faccio strisciare sotto il pavimento continua eh continuo si minchia quando mi trovo un deficiente davanti c'è assurdo brother dimmi ma hai qualche problema io sono un deficiente si sei un deficiente io ti prendo a colpi di minchia in destra per destra a sinistra ma cosa devi prendere a colpi di minchia avrai 12 anni una minchia piccolissima ma cosa devi prendere dai vai a far sparare sui campi vai try yarder vai vai sui campi vai sui campi continuo vai sui campi fai parlare la pistola che con la bocca fai parlare la pistola fai parlare la pistola che con la bocca sei un deficiente non stai parlare manco in italiano dai via 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 carissimo 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 fermati un attimo ragazzi ditemi ragazzi ma spiegami un attimo spiegami un attimo tu stai tossicando per qualunque no io sono uscito e letteralmente ho chiesto ma per i reatici pensate voi a toglierli questo è iniziato no prendi vattene ma chi cazzo sei ma cosa vuoi non sai neanche di cosa stiamo parlando prendi va rompo il cazzo te l'ho fatto io l'arresto però qual è il problema scusami eh è stato annullato svegliati ok apposto svegliati ho chiesto potete lo togliete voi il reato no prendi vattene eh ci credo inizia a fare il coglione dai sei uno sveglione dai dai facci vedere faccia di merda faccia di merda a tuo padre col cornuto cazzo ah perfetto faccia di merda a tuo padre perfetto ti aspetto in caffetteria vai vai andiamo ti aspetto anche io così ci beviamo una bella tazza di te no dai sti deficienti di merda minchia tossici del cazzo che vogliono farmi perdere tempo ma l'andassero a fare in culo dai pigliano eh no devi prenderla ta te le puo grazie a tutti